Era stato incastrato grazie al coraggio di due ragazzine, per lui erano scattate le manette, ma l'arresto non è stato convalidato e così è tornato ai domiciliari, proprio nell'abitazione di fronte alla quale si era consumato il furto. L'uomo, un 37enne di Sansepolcro, agli arresti domiciliari, lo scorso lunedì pomeriggio era evaso e aveva rubato un borsello all'interno di una Mercedes in sosta in Piaggia del Murello, nel cuore del centro storico Aretino. Pensava di poter agire indisturbato, ma invece dentro l'auto c'erano le giovanissime che attendevano il nonno di una delle due sui sedili posteriori. Le ragazzine, dopo essersi ritrovate faccia a faccia con il ladro, non ci avevano pensato due volte ed avevano iniziato ad urlare, richiamando così l'attenzione del nonno, poi la chiamata alla polizia ed infine l'arresto. Questa mattina il 37enne si è presentato di fronte al giudice monocratico di Arezzo, che ha ritenuto non legittimo l'arresto in quanto non c'erano i requisiti per farlo scattare, in primis la flagranza. L'uomo infatti è stato fermato alcuni minuti dopo il furto, quando già aveva restituito al nonno di una delle due ragazzine quanto rubato. È stato invece convalidato l'arresto per l'evasione, anche se al momento dell'arrivo della polizia era già rientrato in casa. Il prossimo 4 novembre sarà celebrata la direttissima.